L'era Magliulo appartiene già al passato, assieme ai suoi faccendieri che hanno anteposto i propri interessi a quelli della città. Lo si potrebbe riassumere in questi termini il pensiero comune dei leader del centro-sinistra putiolano, a 48 ore dalle dimissioni di 13 consiglieri comunali che hanno portato alla fine dell'esperienza da sindaco dell'ex dirigente di Via Tito Livio, Agostino Magliulo, Vincenzo Figliolia per il Partito Democratico, Carlo Morra per Sinistra Ecologia e Libertà e Francesco Costigliola per Italia dei Valori. Hanno incontrato la stampa per illustrare le motivazioni che hanno indotto la minoranza a rassegnare le dimissioni, assieme a quattro esponenti della maggioranza. Dal 2005 questa città non viene governata. Come centro-sinistra ci accingiamo a costituire una classe politica degna dei cittadini di Pozzuoli. Queste le parole di Raffaele Visconti. Adesso ci accingiamo a ricostruire la città con un gruppo dirigente che deve stare all'altezza della città perché la città e i cittadini meritano un gruppo dirigente diverso da quello che fino adesso hanno governato. Quindi come centro-sinistra noi ci assumiamo la responsabilità di voler governare questa città e dare un segnale diverso alla città e ai cittadini. A fare eco alle parole di Visconti colui che ha sfidato alla carica di primo cittadino Magliulo, Vincenzo Figliolia. Adesso si incomincia a pensare a questa purtroppo sfortunata città. Cerchiamo di mettere in campo un lavoro che possa portare ad una coalizione, ad una classe dirigente che possa amministrare questa città con stabilità, determinazione e garanzia nell'interesse generale. Il fatto scatenante per quanto ci riguarda è stata la grande preoccupazione che si è verificata nella notte tra la domenica e il lunedì quando hanno incominciato il calciomercato, l'acquisto dei consiglieri comunali. Il passaggio di Tommaso Pollice all'Udc? Io lo ritengo un fatto grave, sia quello che ha fatto il consigliere eletto. Il consigliere eletto era capolista della mia lista, della lista civica che ha rappresentato una della coalizione centrosista con il sottoscritto Sino. Penso che sia un fatto grave sui valori, sulla dignità delle persone e sulla coerenza politica. Io mi batterò contro tutti coloro che fanno i salti in banca. Non è classe dirigente che può rappresentare una città millenare come la nostra. Il centrosinistra però fa capire di guardare già al futuro. Alleanze, strategie e programmi saranno definiti nei prossimi mesi. La campagna elettorale è però già aperta. Vincenzo Figliolia non si sbilancia su una sua eventuale ricandidatura. Sarà il partito e l'alleanza a decidere, ha ripetuto con non troppa fantasia. Di sicuro nel centrosinistra non ci sarà Tommaso Pollice, un uomo che politicamente è finito, afferma. Il consigliere poco prima delle dimissioni in massa dei 13 consiglieri era passato dall'Udc dopo essere stato eletto tra le fila del centrosinistra.